Crisi sociale. Questi temi, aborto, criminalità, droga, razzismo, sono temi trasversali da un punto di vista geografico. Non solo sono temi trasversali, ma sono temi in larga parte nuovi, o anche quelli non nuovi, perché il razzismo negli Stati Uniti certamente non è nuovo, ma che si presenta con delle caratteristiche completamente nuove, perché i grandi saccheggi delle metropoli degli anni 70 costituiscono una svolta, una rottura con il razzismo che c'era stato non solo quello precedente a Martin Luther King e le battaglie per i diritti umani, ma anche nella fase dal 1964, quando viene sancita per legge la fine di ogni tipo di discriminazione razziale ufficiale da parte di Johnson e l'inizio per l'appunto di queste nuove crisi che coinvolgono e riguardano soprattutto masse giovanili urbane, quindi con delle caratteristiche nuove. La droga negli anni 70, è ovvio che la droga esisteva anche prima, ma diventa un fenomeno mondiale di portata tale che modifica non solo le strutture profonde della criminalità organizzata, ma anche la vita delle città e dei giovani di tutto il mondo, o chi non vede quegli anni come l'inizio di questo, tende a pensare che tutto sommato ci sia sempre stato un rapporto con la droga o con la criminalità analogo, magari anche minore quantitativamente, rispetto, ma cambia proprio la qualità in questo periodo. Quindi questo è un decennio che va analizzato anche, noi non l'abbiamo fatto minimamente, non è legato alla crisi, ma se parliamo di crisi in generale, questi sono aspetti di una crisi molto profonda che riguarda proprio le relazioni di vita primarie e che quindi devono essere presi in considerazione e forse sono anche quelle su cui è più facile o più interessante o più utile fare un lavoro didattico.